Molti di voi mi chiedono che cosa è successo di così grave col professor Galli. È successa una cosa molto semplice, che in televisione un giorno a me dice che non è vero, anzi si tratta di una balla, che il 94% dei casi di Covid siano asintomatici o con pochi sintomi e il giorno dopo, sempre a Rete4 invece, dice che il 94% dei casi invece sono asintomatici e con pochi sintomi. Poi intervistato dalla Zanzara, dei miei amici della Zanzara, dice io non devo andare in televisione per un libro né per un cachet, ci mancherebbe altro che venga pagato per venire in televisione, non devo andare in televisione per fare strane operazioni con le case farmaceutiche, insomma una specie di escusazio non petita oppure un'accusazio nei confronti di alcuni colleghi che non la pensano come lui. Lasciamo perdere, se questa è una cosa simpatica nei confronti dell'universo mondo, di coloro che non la pensano come Galli e di coloro che non si contraddicono, a differenza di Galli, nel giro di una giornata, perché molti si sono contraddetti da influenza a malattia letale, ma Galli proprio nel giro di 24 ore sulla stessa rete dice tutto il contrario di tutto. Però il punto fondamentale quindi non è tanto gli interessi economici, c'ha la ragione uno straordinario Alexandre Dumas quando diceva io preferisco i mascalzoni agli imbecilli perché i primi, cioè i mascalzoni, ogni tanto si danno una pausa. Ecco, Galli una pausa non se la dà mai, è sempre in televisione, è sempre lì a dirvi che abbiamo sbagliato a fare l'estate, che stiamo per morire tutti quanti, che non sono asintomatici, se non che quando qualcuno gli fa una domanda, una domanda, Galli lo definisce un energumeno. In realtà si chiama democrazia. Oppure anche televisione, in fondo, dove i giornalisti, se invitati, cercano di fare qualche domanda a questa specie di guru del virus che però, abbiamo visto, si contraddicono nel giro di 24 ore. Ciao.